Buone notizie per quanto riguarda l'energia. È appena stato accolto un nostro emendamento che prevede lo sconto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, quindi i mercati, per tutti gli esercizi che utilizzano sistemi di microgenerazione, quindi da fonti rinnovabili. Questo ovviamente sarà un'ottima cosa per iniziare a sostituire i gruppi elettrogeni, che ricordiamo essere molto inquinanti e soprattutto nei modelli a due tempi, con pannelli solari, generatori a idrogeno e quindi soluzioni nuove, in linea con le indicazioni della comunità europea verso una terza rivoluzione industriale, giusto per ricordare Jeremy Rifkin. Quindi è un piccolo inizio, anche per il Comune di Milano, verso la terza rivoluzione industriale. Siamo molto soddisfatti e monitoreremo nel tempo l'andamento di questo.